ciao amici dell'aeroclub santiodoro colleghi del corso siamo a 325 metri siamo in dinamica all'argentiera di solito arriviamo lì dove ci sono quelle due vele che il museo di porco oltre non è praticabile niente qua siamo in una zona che viene chiamata frana decolliamo lì dove 70 metri 80 metri praticamente sfruttiamo la dinamica e dopodiché diciamo a guadagnare comunque quota insomma non c'è termica solo dinamica un po' oggi i cumuli forse adesso mi stanno dando un po' una mano e insomma una bella quota per essere soltanto dinamica nella speranza che voi possiate venire qualche volta a vedere anche quest'altro tipo di volo inoltre un carissimo saluto ciao a tutti